già in seconda elementare avevo l'impressione che mi si guardasse con un occhio particolare di particolare riguardo ecclesiale non so anche quando veniva in visita un prelato titolato per esempio mi si chiamava nel piccolo salotto delle grandi occasioni e il monsignore in questione mi sparava di punto in bianco mentre ancora stavo chino con le labbra sull'anello 2 per 2 per 8 meno 15 più 303 diviso per 6 e dalla terza in poi tenevo il registro dell'economia della classe e quando sono passato dal breve fotofio al seminario praticamente uscendo da una porta svoltando un angolo e rientrando da una del tutto uguale ho gestito via via la cancelleria di tutte le classi del ginnasio e del liceo ero in direzione fianco a fianco correttore i gessetti i quaderni l'inchiostro le penne e i pennini il computo della cartoleria in generale l'occorrente ecco per classi talvolta di ben 32 alunni e dovevo essere io a ricordarlo a ognuno specialmente a quelli che costavano solo e non rendevano in proporzione ai consumi e ai voti sapevo quanto gravavano su dio con le con le nostre sviste e svogliatezze e distrazioni dal compito assegnatoci e riusciva a dire quanto costava in centesimi una singola macchia d'inchiostro caduta sul foglio per sbadataggine o monelleria o sonno perso riuscivo a far sentire in colpa esponendo i meri fatti dell'economia che soggiaceva alla propedeutica della teologia vera e propria che ci aspettava dopo il diploma parlavo quasi esclusivamente di sprechi e di uscite mai di risparmi e di guadagni e ovviamente non sapevo niente delle entrate nella cassa dell'economato e facevo già in seconda ginnasi o le mie osservazioni a gente lì lì per prendere i voti gliele impartivo con quel sorriso di benevolenza e vere condia che preludi al perdono anzi che lo preventiva preventivare il perdono significa preventivare la necessità della colpa a venire se si aspira alla guarigione di un sano bisogna prima inventarli la malattia l'inghippo primo del cristianesimo mi era chiaro pervertire l'intollerabile salute e vitalità dei pagani rompergli il giocattolino del vitello d'oro e di tutta la movida politeista senza accise intorno costringerli col terrore e le carneficine a versare prima quella gabella addoganale che erano abituati comoda ad dare a caronte dopo la dessero subito a noi e poi transitavamo come solito sul rosolio e basta ibris troppo anarchica e incontrollabile e duty free e poi così elittaria bisognava sostituirla con dei tabù di massa ad hoc da infrangere conformandosi al relativo tarifario fornito da noi creare peccati specifici cioè finte malattie assunte come tragiche necrosi dell'anima nei campi più disparati ma innanzitutto nella sessualità visto che il peccato originale era troppo poca cosa per farvi un affidamento non transuente è sempre stata la specialità commerciale più spiccata di madre chiesa essendo maestra di vita è docente di alta altissima finanza e il lungo lunghissimo insolvibile termine e anche il più immediato sincronico nunc et semper all'eternità da subito l'innominabile adesso ha fatto una scivolata di suole da libellula e sta attaccando un ricamo ai suoi spropositi in un altro gruppetto di cavie involontarie so che si fa pagare apposta un tanto a dichiarazione possibile di querela e che voce da tribuno quello lì lui sì che sarebbe nato per parlare dai balconi anche a schiena girata gli anni sessanta non erano già più tempi di vocazione a cascata la chiesa viveva ancora di rendita sugli orfani di guerra di entrambe le guerre mondiali per dirne una vicino a casa mia nell'ubertosa valle trompia ricca di castagni dove per l'appunto sono specializzati nella fabbrica di armi da fuoco e di mine anti uomo e nella cottura istantanea dei marroni umani ai quattro poli della terra in un comune di mille abitanti scarsi nel 1910 si vantarono 60 vocazioni di cui solo quattro non giunte a buon fine ma pur sempre a mani giunte un decennio dopo me l'ha detto una mia parente osservante stretta proprio ieri quando le ho detto che venivo qua a fare una marchetta e lei è una soldatina di cristo e beh ovvio che non si renda conto che neppure quelle quattro sottane nere mancate sono andate perdute e che anzi sono quelle che sono giunte a buon fine più di tante altre consacrate quelle quattro in abiti borghesi borghesi avranno dato valore aggiunto alle altre 56 in piena mis rutinaria saranno diventati quattro cani da guardia incivile degli interessi dei loro occultamente generosi pedagoghi e salvatori dalle plague veteroleghiste dell'analfabetismo saranno diventati dei fascisti esemplari dei podestà in orbace su un balcone che promettevano l'olio di ricino che è ancora la cosa più vicina una tonaca nera su un pulpito che brandisce un'ostia divina minimo oggi sarebbero i che rispettivi che ne so di un direttore di ospedale civile che si avvale dell'obiezione di coscienza per non praticare l'aborto gratis e convogliare le disgraziate imploranti verso un collega dal cucchiaino d'oro o di un mastino di guardia o un'agenzia stampa o di un rettore d'università magari rossa o di un capo struttura rai o di un autore di punta della satira politica sulle reti di media sette debitamente di sinistra un mangia preti che mangia coi preti che se lo mangiano balla coi preti il resto del bughi viene da sé avete notato come anche le migliori menti ate agnostiche a confessionali dio del cielo se fosse una colomba che termini del cacchio e i più insospettabili illuminati illuministi italiani emanino nei loro discorsi quel retrolezzo di sacristia che spegne tutti i ceri meno uno perché non si sa mai e arrivare al 27 senza la spintarella del prevosto può diventare problematico da un mese all'altro e i politici che propugnano la fine dello stato etico più la poltrona gli traballa sotto il culo più si danno pubblicamente all'intima ricerca di dio prendete berti knight siamo arrivati al paradosso che il vero scalfaro e scalfari non sarebbero da ghigliottinare tutti senza nemmeno il conforto di una telecamera io non credo alle mie orecchie sebbene abbia tradotto dai miei lambicamenti quanto non oserei confessare nemmeno in confessionale al mio padre di riferimento che sia vero quello che dicono di lui che se ti guarda per più di 6,6 secondi ti ruba l'anima a me ne bastano 5,5 se è per questo col senno di poi posso ridimensionare seppur di non molto quell'occhio di particolare riguardo che in seminario sentivo premuto su di me e il mio futuro da indirizzare a scopi di quella più vasta ed ecumenica salvezza che garantisce l'abilità di gestire i numeri correnti delle società civile in ristagno qualcuno pagava mia insaputa una generosissima retta per me all'interno della società ecclesiastica ho dovuto impormi io per non godere di una camera con turca tutta per me e poter restare nella camerata come tutti i miei simili morti di fame puzzolenti di smegma da far ribrezzo e chi l'ha pagata non è certo stato un marinaio un mozzo senza arte né parte che avrà vissuta la giornata e che mi ha beneficiato della sua provvidenziale assenza di mia madre dico lei a scrittami quale madre da mia nonna che doveva avere più o meno i suoi anni e che però a differenza della svedese capricciosa e girovaga aveva fatto del sesso un mestiere ho un ricordo molto vago sì più lo spremo meno ne esce è venuta a trovarmi d'estate due volte a due e a quattro anni mi portava al mare uff lì a venti metri un mica alle olie con un cestino di paglia azzurro pieno di cose buone da mangiare da bere e non parlava neanche sapevo chi era e non aveva alcun nome non dormiva da noi mi guardava come fossi qualcosa di vetro o di spuma o un cagnolino senza coda ma non un essere reale uscito a suo tempo da un grembo di donna e comunque non fatto da lei mia nonna mi ha detto che era già su con gli anni quando mi ha partorito che sono nato in svezia che mia madre dunque quella donna dalle merende al mare per qualche ora per due pomeriggi di fila per due anni e poi basta si era tolta un capriccio da nordica con quel giovanotto di suo figlio dal canestro di vimini avanti e indietro dai rari asciugamani stesi sull'arena a strappare bottigliette di acqua zucchero e limone e a spaccarnoci di cocco frutto tropicale che mia nonna gli procurava facendo la posta a certe navi e a certi doganieri che conosceva lei io non ho mai dubitato che mia madre fosse quella che mi era stata o riferito fosse non essendocene una o un'altra per me andava bene anche lei era lei e nessun'altra che lei era nessuna come lo sarebbe stata una bagnante dentro una camera d'aria di camion sulla cresta della bonaccia e infatti ne ho avuto conferma del tutto quando all'età di vent'anni e a pochi mesi dalla tonsura mi è piombata tra capo e collo un'eredità dir poco principesca con tanto di castello in quel di malmò che guarda di sghimbescio verso il castello danese di elsinor di persona mai visto né uno nell'altro mia madre da vedova era diventata la regina dello stocafisso svedese del surgelato industriale e spergiura fino all'ultima goccia del sangue del suo sangue mi faceva sapere nel testamento che io ero stato il suo figlio più ama il suo figlio prediletto venuto al mondo per mandar dei suoi peccati eccetera che delusione quella donna che animuccia da un milione di baccalà nella rete e da quattro acciughi in scatola per dettare una cosa così insulsa da donnina allegra pentita che scambia gli sfoghi degli uomini cui soggiace per dei peccati e oltretutto suoi una sirina del sesso libro ormai invecchiata e beghina che faceva dei mea culpa tramite notaio lasciando fuori la sua colpa vera l'avermi buttato via ma io ho girato tutte quelle proprietà e quei pescherecci e quelle merlature e quei liquidi al vicariato e ho sempre evitato il cattegat come l'acqua santa del diavolo immagino che quel paio di lettere che ho ricevuto in seguito siano state di coeredi a pari diritto ho fatto rispondere che non desideravo incontrare nessuno che il mio nome di famiglia restava quello di mia nonna e che la mia esperienza materna lì si era compiuta e lì finiva e restava avrei sistemato mio padre dove mi avesse chiesto lui perché remoto da me e dal seminario ma non c'è stato niente da fare nessuna indagine ha portato a rintracciarlo nemmeno da estinto sarà andata a nutrire i merluzzi del suo stupratore in due pezzi o in camicia nera penso che quella tocca di svedese allattasse l'avventura più di tutto e che dei sentimenti predileggesse la parte oppressa tenuta giù non profferta l'aureola penitenziale io le sono servito per crearsi una pena incommensurabile che non potesse finalmente lenire con una bevuta e una scopata sotto le stelle